Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi siamo qui per sorteggiare il vincitore del contest. Prima di sorteggiarlo volevo dare alcune informazioni. Allora, la prima informazione è che, visto che ho ricevuto dei commenti sui miei contest dicendo che comunque ho messo in palio pochi codici, volevo dirvi che nel prossimo contest che organizzerò fra circa una settimana o due settimane, già i codici ce li ho pronti, vincerete molti ma molti di più codici. Appunto visto che vi siete lamentati ho detto va bene accontentiamoli così da invoiarli a divulgare la notizia nel mio contest. Quindi questa è la prima informazione. La seconda informazione è che avrete più possibilità di vincere. Cioè, non solo vi darò la possibilità di vincere mettendo il mio piace, iscrivervi sul mio canale e commentare con l'hashtag io partecipo. Non solo questo, ma vi darò la possibilità di condividere il link del mio contest su Facebook o dove volete. ovviamente mi dovete far vedere lo screenshot della vostra condivisione mandandomela su Facebook, sulla mia pagina Facebook. Io vi darò invece di una possibilità, ve ne darò due. Quindi non solo potrete vincere, avete una possibilità di vincere ma ne avrete bensì due. Quindi vi conviene farlo. Quindi vi volevo invitare anche di seguire gli altri video. Non so se pubblicherò altri video di Clash Royale, visto che non ho avuto molti riscontri positivi. vi invito appunto di vedere altri video come Clash Royale, la Challenge Epica, che comunque fa molto ridere. Cioè io che l'ho fatto e sapevo cosa succedeva. Anche se è lungo, ma vi assicuro che ne vale assolutamente la pena vederlo. Perché vi scascerete dalle risate. Non so se si può dire scascerete, però nel mio dialetto si può dire, quindi va bene. Ok, dopo quest'altra informazione vi invito di seguirmi sul mio blog. Ok, non pubblico soltanto cose riguardanti il mio canale su YouTube, ma pubblico anche cose tipo recensioni, non solo di ristoranti, non solo di libri di cucina, ma tutto quello che mi succede io lo scrivo sul mio blog, perché mi piace appunto. E spero che comunque lo visitiate in molti, perché ci tengo molto. Bene, non solo questo, vi invito appunto di iscrivervi sul mio Facebook, sulla mia pagina Facebook. Ho sempre il link qua sotto, tutti i link sono qua sotto. E vi invito, se volete, a supportare il mio canale. E come fate fare a supportare il mio canale? È facilissimo, qua sotto c'è il link di un sito dove potete fare donazioni. Queste donazioni saranno usate esclusivamente per fare appunto video, per fare nuovi contest molto più ricchi, cioè non mettendo soltanto i codici delle carte, ma che ne so, potrò fare qualsiasi cosa. Magari se fate anche tante donazioni potrò organizzare un torneo su Clash Royale. Quindi vi invito a farla e non solo, cercherò di migliorare anche le attrezzature del mio canale. Quindi saranno tutte dedicate al canale e non per me. Quindi anche per voi. Se volete potete dare il vostro contributo appunto su questo sito. A parte questo, non mi sembra che devo aggiungere qualcos'altro. Ovviamente se spunterà un mio commento, cioè se spunterà appunto un commento dove ho scritto io qualcosa, o sarà un commento di una persona che non ha partecipato in modo corretto, cioè ha scritto qualche altra cosa, non so. Io ho provveduto appunto di mettere like sui commenti che erano giusti e corretti che avevano partecipato in modo corretto. Quindi appunto se controllate poco fa avevo messo like ai commenti giusti. Bene, adesso provvediamo a sorteggiare il vincitore dopo tutte queste grandi notizie. Appunto vi invito sempre di vedere i miei altri video. Sì qua c'è Stephanie, io lo seguo. Ah, bello. Va bene, dopo questa parentesi. Bene, copiamo il link. Ok, e copiamolo qua. Cioè incolliamolo qua. E lo addighiamo tutti i commenti. Come potete vedere è il video corretto, quindi il mio contest Pokémon Kart codici TCG online. Quindi giusto. E randomizziamo il vincitore. Rullo di tamburi. Ok, devo cliccare per forza. E ha vinto Devido Diabate. Ok, ha lasciato l'hashtag giusto. Ha commentato, ovviamente. E ha lasciato like. Benissimo, ragazzi. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Che tu persona Devido Diabate. Contattami sulla mia pagina Facebook che lascerò qua sotto. Iscriviti su Facebook appunto. Perché se non ti iscriverai provvederò a sorteggiare un altro vincitore. Quindi iscriviti e dopo contattami. Bene, ragazzi. E al prossimo video e al prossimo video contest. Spero che questo video vi sia piaciuto. Quindi, ciao!